1 2 3 classroom bene ora entriamo in classroom entriamo dentro la nostra classroom e andiamo in lavori del corso possiamo andare a creare innanzitutto un argomento quindi possiamo riordinare tutti i vari compiti vari materiali all'interno di argomenti che compariranno qua sulla sinistra e renderanno diciamo sia la ricerca che il lavoro più ordinato comunque sia possiamo fare così argomento e linee adesso io faccio un esempio per la scuola primaria poi ognuno la adatterà poi vado su crea materiale e allegro cercandolo direttamente da youtube un video delle tabelline canterine così che i miei alunni potranno ripassarle cantando ora ci sono anche i video dove ci sono tutte vabbè iniziamo con una l'alternativa a questa ricerca direttamente dentro al classroom è quella di cercarsi su youtube il link diciamo url che ci interessa e copiarlo direttamente a questo punto posso mettere qui che ne so ascoltate ripassate quello che volete poi vado su argomento tabelline quello che abbiamo creato prima posso scegliere di mandarle a tutti gli studenti oppure scegliere solo alcuni studenti ora in questa classroom non ho studenti altrimenti avrei tutto l'elenco qui sotto toglierei la spunta da tutti e andrei a scegliere solo coloro a cui voglio mandare la tabellina del 7 dopodiché posso o pubblicare subito ma se sto lavorando alle due di notte sconsigliato oppure andare su questa freccina in basso e scegliere di programmare l'invio quindi che ne so domani mattina oppure salvare una bozza e poi inviarla successivamente programmare facciamo programma per domani alle 8 io lo vedrò in grigio chiaro sul mio stream e domani mattina alle 8 arriverà una notifica ai miei alunni per creare invece un compito vado su compito facciamo finta che do da fare un testo adesso sono dentro una classroom che si chiama geografia ora sono nella classe di geografia e creo un compito dove ogni alunno avrà un documento su cui scrivere quindi qua metterò delle istruzioni dettagliate poi vado su crea documenti qua lo chiamo finestra e qui posso mettere una traccia quello che voglio scusate stavo scrivendo sul titolo qui posso mettere una traccia delle istruzioni ulteriori quello che credo una volta fatto torno indietro e vedo che mi esce questa scritta gli studenti possono visualizzare il file in questo caso io non voglio che loro visualizzino il file non è più un materiale che condivido ma voglio che lavorino quindi vado su crea una copia per ogni studente a questo punto sceglio sceglio a questo punto scelgo a chi assegnarlo ho solo un alunno quindi lo assegnerò a lui posso anche decidere in che argomento inserirlo quindi creerò un argomento descrizione per esempio e decido se dare una data di scadenza attenzione perché se do la data di scadenza se consegnano in ritardo uscirà loro una scritta rossa con scritto hai consegnato in ritardo valutate voi io a volte metto anche senza data di scadenza soprattutto se i bambini non sono ancora abituati ad utilizzare questo strumento posso lasciare il voto oppure senza voto posso aggiungere una griglia di valutazione una griglia già esistente oppure crearne una ora assegno il compito l'alunno entrando nella propria classe vedrà già in scadenza domani un compito potrà accedere da qui entrare dentro al compito entrare dentro al proprio documento andare a scrivere quello che vede dalla sua finestra dopo di che potrà sia andare su questo consegna qua in alto dove gli verrà chiesto sei sicuro di consegnare va bene consegno ma se due volte lo chiede perché dice ma hai scritto niente a questo punto l'alunno può decidere di ritirare il compito e ricontrollarlo ok fino alla scadenza altrimenti lasciandolo così il docente andando nel compito vedrà che un alunno ha consegnato grazie per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima puntata con un due tre classroom però mi raccomando già che ci siete iscrivetevi al canale grazie